Mi è successo qualche volta di sentirvi come avvolti in qualcosa che potesse essere una corazza, un involucro, qualcosa che serve un po' a nascondersi ma anche a proteggersi, qualcosa che potrebbe servire anche a trasmettere all'esterno un'immagine di forza che a volte potrebbe essere ben al di là della sensazione che ognuno riceve da se stesso. È un modo naturale per proteggersi ma è una dimensione naturalissima che ad occhi chiusi in un laboratorio di creatività può venire fuori in maniera dirompente. Che succede allora? Succede che quando un lavoro del genere viene realizzato in un laboratorio spesso il suo autore o la sua autrice come in questo caso non si rende conto di aver realizzato un bisogno, di aver messo in forma creativa un bisogno, una percezione di sé molto più intima di quello che l'immagine del corpo in sé potrebbe raccontare. Cioè non è l'immagine del corpo quella che conta ma è il significato simbolico che è nascosto all'interno di un messaggio che viene veicolato dall'aver realizzato quel lavoro in maniera spontanea ad occhi chiusi cioè senza poter correggere con la vista gli eventuali difetti o le imperfezioni che l'opera in sé poteva avere. Allora con l'aiuto del gruppo arriviamo a scoprire il messaggio di questo lavoro che ho chiamato l'incontro. Per me è stato un esercizio stupendo perché veramente lavorare ad occhi chiusi mi stimola proprio i sensi quindi mi è piaciuto tantissimo e mi sentivo anche molto rilassata e non è la prima volta che lavoro il DAS o comunque ho già lavorato con la Creta e ho scelto di non fare una cosa fatta bene. Mi sono detta cosa ho sentito quando ho fatto gli esercizi precedenti e quello che mi aveva colpito era la sensazione di fermezza quando avveniva lo stop. La sensazione di fermezza e di stabilità che mi piaceva. Probabilmente perché in realtà non la sento molto e quindi mi aveva colpito. e quindi ho deciso di rappresentare un po' questo e quindi da una parte la sensazione di stabilità in senso positivo dall'altra parte la sensazione invece di stabilità in senso negativo perché parallelamente per alcuni aspetti della mia vita mi sento così quindi ferma. Non mi sono concentrata sul viso e aprendo gli occhi ho detto caspita l'accenno è così storto e il fatto che pensavo di essere stata un pochino più come dire centrata quindi nel mento e in questi due punti che dovrebbero essere in realtà l'accenno dell'occhio e il sopracciglio insomma però non era l'oggetto del mio interesse. L'oggetto del mio interesse sarà tanto il collo, le spalle e poi rendere anche la pesantezza. gli altri stabilità di certo, fermezza, pesantezza, 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 pesantezza. Anche qua si vede che è un'opera verticale intanto no? In cui c'è una attenzione al momento razionale una prevalenza di attenzione a quello che c'è intorno a noi. Tra l'altro il fatto di usare questo materiale perché questo è non l'argilla perché l'argilla si compatta subito, questo no e lascia intravedere anche il processo con il quale si è arrivati a realizzare qualcosa. Vi faccio vedere una cosa, guardate come è fatta questa testa è come se fossero i due emisferi separati, lo vedete? È come se ci fosse una netta separazione tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Quindi l'emisfero razionale è quello irrazionale, quello creativo. Ora, se esista questa dicotomia, questa lotta interiore tra essere ben radicati oppure decidere di spiccare il volo lo può sapere soltanto l'autrice. D'altro canto se mettiamo insieme qualche altro elemento potrebbe esserci un sostegno a quest'idea, cioè a me la prima idea che ha dato questo lavoro quando l'ho visto è che ci sia qualcosa dentro, cioè è come se fosse una corazza, perché è talmente forte, talmente pesante, talmente statico, talmente rigido, sembra una corazza. E una corazza significa tante cose, può significare tante cose. di sicuro proteggersi, di sicuro non perdere il controllo, essere comunque statici, forti, apparire forti, magari più di quanto poi forse dentro non ci possiamo sentire. Allora, soltanto tu puoi dire se questi sono degli elementi... Sì, 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 effettivamente mi ci rivedo anche questa chiave di lettura. Volete aggiungere qualcos'altro? Il disequilibrio laterale. Ha una spalla un po' abbassata. Ecco, quello potrebbe dipendere, quando osserverete i vostri lavori guardatevi bene, proprio dallo schema corporeo che voi avete, perché noi abbiamo memorizzato il nostro schema corporeo. Siccome noi non siamo mai perfettamente simmetrici, questo potrebbe dipendere anche dal fatto che una spalla la percepiamo, senza neanche rendercene conto, un po' più bassa dell'altra, perché è normale che sia così, è quasi impossibile che siano completamente allineate. Magari un millimetro di differenza c'è. Allora, quando poi lo facciamo ad occhi chiusi, non potendo controllare quello, ripetiamo lo schema corporeo che è quello che noi abbiamo memorizzato, che è il nostro. Allora, ripetiamo anche quelle piccole asimmetrie che caratterizzano il nostro corpo. Quello potrebbe dipendere. Non lo possiamo sapere, però spesso capita che vengano evidenziate delle fratture nella materia dove magari ci sono state davvero delle fratture nel corpo. Il bacino spostato, ho avuto un incidente, succede tante volte che vengono fuori. perché abbiamo memorizzato il nostro schema corporeo. Quando lo riproduciamo, anche la rottura in alcuni punti del nostro corpo, capita che venga fuori attraverso proprio una materia così poco morbida, perché non è semplicissima da lavorare, proprio perché dovendola ricompattare e poi lascia questa ferita che fa vedere anche delle cose diverse. Va bene. Ok, altro? Le articolazioni, c'è nel senso tanta struttura, è grossa, ma totale mancanza di articolazione, per cui ha allargato tutti i punti che dovrebbero essere gli snodi, dal bacino, le ginocchia, i gomiti e anche il collo stesso. Tutto ciò che dovrebbe essere il punto del movimento è bloccato. Possiamo dire che c'è della rigidità? Come davvero se ci fosse una corazza? Perché chi indossa una corazza ha per forza una rigidità, ma perché con la corazza ti puoi muovere liberamente come vuoi? Che dice l'autrice? Sì, sono d'accordo. È vero, sì, è vero, sì, sì. Però è molto bello esteticamente, anche nella sua rigidità. Femminile peraltro, perché ci sono questi… È costruito con le giuste intenzioni, positive. Poi questa differenza secondo me gli dà anche… Movimento. Movimento, esatto. Non è statico, è dinamico, è lento. Lento, però appunto ha una sua anima. È megalitico. Tra l'altro è fatta in un modo che io da lontano la percepivo come se fosse completamente liscia, liscia, liscia e solo da vicino si vedono le crepe. Cioè da lontano sembrava quasi, lasciamena passare la statuetta dell'Oscar, no? È molto lucida. Alla fine dicevo, ma guarda, no? E rimanevo da lano così a guardarle e dicevo, ma come l'ha fatto? Poi guardavo la mente e dicevo, lì è piena di crepe. Cioè io provavo, no? La sentivo, la mia che aveva le crepette che romavo, lisciarla. Ma insomma non ci riuscivo, alla fine ho lasciato andare. E la vedevo e dicevo, no? E invece poi solo da vicino, invece da lontano è fatta talmente forse la sua forma, no? La sua verticalità che gli dà anche questo effetto che da lontano sembra totalmente liscia. Non lo so, mi aveva colpito questa cosa. L'effetto Oscar. L'effetto Oscar. L'effetto Oscar.